benvenuto su all music italia e innanzitutto la mia domanda di rito che può sembrare banale scontata ma in realtà fa riferimento proprio a questo preciso momento è come stai bene grazie grazie per avermi chiesto di partecipare a questa nostra chiamata bene sto bene un po stanchino perché sto mettendo insieme un po di cose da fare e sono anche un po disorganizzato a volte e quindi questo fa sì che io rincorra le cose che però tutto bene un bel momento quando c'è della musica ovviamente la domanda era riferita alla come stai nel mondo musicale in questo momento non alla vita più in generale quindi giustamente poi dopo quando uno chiede come stai a uno che fa musica di conseguenza anche la vita di tutti i giorni è normale che rientri nella nella risposta giusto e allora partiamo subito dal dal tuo ultimo disco che ancora non è uscito uscirà il 7 giugno si intitola la soia dei trenta e noi abbiamo avuto il piacere di ascoltarla in anteprima e ho rilevato questo concetto di soia che secondo me è molto importante in tutto il disco perché sembra esserci un passato ed un futuro e questa soia è proprio l'attraversamento che secondo me indica anche il cambiamento e la domanda che ti voglio fare quanto ti fa paura il cambiamento allora più che il cambiamento mi fa mi ha sempre fatto molto paura stare fermo cioè nel senso non sapere cosa poteva succedere nei miei momenti della vita però proprio per questo motivo il motivo per cui ho scritto questo disco per fotografare momento in cui ero fermo e stavo guardando le cose e per cercare di fare dei ragionamenti per poi effettivamente affrontare il cambiamento nei miei dischi precedenti parlavo tanto di passato di tempo al passato no e quindi ho detto proviamo a fare un'evoluzione cerchiamo di concentrarci su sull'oggi perché guardo sempre o troppo avanti o troppo indietro e quindi ho deciso di fotografare quel momento lì il cambiamento col cambiamento non ho un brutto rapporto perché mi rendo conto che poi alla fine non ho soltanto tutto le paure eccetera poi alla fine io cerco sempre di cambiare di emosere quindi alla fine probabilmente non mi fa così tanta paura eh tra i temi che emergono in maniera prepotente c'è questo tema della del fallimento eh che si passa da fallimenti anche individuali ma fallimenti della società in generale eh e quindi secondo te citando anche una tua canzone come ci siamo arrivati fin qua è un po' il quesito è un po' il quesito secondo me ci siamo arrivati non rendendocene conto anche molti dei temi che io tratto all'interno del disco sono oggi in uno stato sono arrivati a un livello in cui secondo me non ci siamo resi conto di esserci arrivati no siamo arrivati a un punto in cui a volte parliamo di cose che un tempo ci sembravano quasi impossibili ci sono degli argomenti che sono ritornati sul piatto in questi ultimi periodi eh argomenti come la libertà eh come la possibilità di dire delle cose addirittura la possibilità di fare informazione eh ci sembra che tutto stia tornando in discussione e questa cosa qui ci sembrava impensabile e quindi credo che ci siamo arrivati proprio senza pensare senza rendercene conto perché credo e penso che se ce ne fossimo reso conto probabilmente saremmo intervenuti eh leggermente prima che le cose accadessero ora invece ci siamo eh sono capitate e forse è arrivato il momento di provare a a far sì che che le cose cambino nuovamente. E quando è nato il progetto di quest'album? Quando hai sentito proprio l'esigenza di eh di scrivere queste canzoni e soprattutto se se sono recenti oppure hai attinto anche a canzoni che avevi scritto in passato e e però fotografavano questo momento? Allora la scrittura di questo disco in realtà no e non è non è frutto diciamo di di una serie di canzoni che poi ho trovato io avessero dei punti in comune ma sono proprio nate tutte insieme e sono nate tra l'altro in un periodo molto breve nel senso che in poche settimane ho scritto l'intero disco mi sono concentrato e l'ho scritto tutto proprio perché volevo volevo che che si riuscisse a sentire quel momento lì e avevo la paura che se avessi tardato nel terminarlo probabilmente poi dopo avrei divagato no da l'argomento lì eh l'ho scritto non tanti mesi fa ehm alla fine dell'anno scorso eh con i trent'anni già compiuti quindi in realtà già pienamente eh oltre anzi sui con i piedi ancora sulla soglia ed è stato molto bello proprio il fatto di essere riuscito a scriverlo così eh tutto d'un fiato fino ad oggi tutti i miei progetti erano frutto di di un di una messa insieme di momenti diversi di periodi diversi alla quale poi ho cercato di trovare una sorta di eh comunione di visione per poi dare un titolo a un progetto e invece questa volta per la prima volta mi è successo di avere l'idea del concetto del concept di quello di cui avrei voluto parlare e di aver scritto proprio in funzione di questa cosa qui. E all'interno del disco eh c'è una canzone che si intitola appunto che fa prendere il nome al disco che si intitola Soia dei trenta in cui c'è eh un pezzo che eh recita anche stavolta si vince domani che sembra quasi uno slogan rivoluzionario e l'importante di eh sapere che si può anche perdere e non succede proprio nulla se si perde. E secondo te chi ha maggiore colpa del fatto di rendere questa vittoria di questo essere vincenti eh nella nostra società secondo te di chi è la colpa? Ehm allora mi risulta la cosa bella di quella frase quando l'ho scritta perché io poi le scrivo e le rileggo di come se non l'avessi scritta io però poi ci ragiono eh la cosa che volevo far sì che passassi era anche il fatto che poi alla fine si può anche riprovare cioè nel senso abbiamo comunque la possibilità di riprovarci un'altra volta. Ehm io penso e credo che la colpa sia un po' collettiva. Ehm c'è tutta una cultura del del fallimento anche nel mondo della musica data dall'attenzione ai numeri, dalla costante ricerca di eh provare ad essere nel posto giusto, al momento giusto perché bisogna fare così, perché tutti fanno così, perché il canale della musica è quello. E mi rendo conto che io sono pienamente dentro quel meccanismo lì nonostante io a volte faccia finta che non sia così, poi alla fine però anche io a mezzanotte mi metto a controllare se le mie canzoni le hanno messe in una playlist. Ehm e allora mi dico probabilmente la colpa è di tutti noi, me compreso eh perché nonostante il meccanismo siamo convinti eh che probabilmente è contorto e probabilmente ci fa anche del male, nonostante questo ci ostiniamo anche noi a volerci essere dentro. Eh è una cosa molto difficile secondo me da da scardinare. Eh però credo, penso, sono abbastanza convinto che siamo arrivati al punto di non ritorno. E siamo arrivati al punto in cui eh questo discorso che io faccio in questa canzone ossia del anche domani anche questa volta si vince domani eh finalmente forse stiamo incominciando a capirlo veramente che questa cosa di poter riprovare in altri mille modi a trovare una soluzione che sia alternativa a quella che tutti ti hanno proposto probabilmente è una figata. Eh infatti poi riguardo poi a questo tema del serie virali tu lo affronti in un'altra canzone che si chiama questa canzone non vale niente con autori ironia e sarcasmo però in questo caso tu con chi te la prendi con le piattaforme o in generale con il mondo della musica che è arrivato a dare importanza agli stream piuttosto che al valore della della qualità che passa da da cantautore ad individuo che ascolta. Allora non me la prendo nello specifico eh con la piattaforma ma anche perché io credo che qualsiasi piattaforma in cui poi può finire della musica ti già di base a qualcosa di buono perché è uno spazio in cui può finire qualcosa che può essere ascoltato da qualcuno e quindi io credo che le piattaforme l'opportunità effettivamente comunque ce la diano nonostante tutto ehm io cerco in quella canzone lì di prendermelo un po' con tanti eh per cercare di prendermela anche un po' con me stesso ehm butto dentro tante tematiche che a volte facciamo anche fatica oggi purtroppo a a riconoscere come non bellissime perché comunque si ha paura in qualche modo di essere giudicanti ehm e io ho provato a fare l'esercizio di dire no stavolta giudico anche io eh so che non piace che non è che non si può che bisogna stare attenti però alla fine ci sono delle cose che non ci piacciono e che non sono giuste che non vanno bene nonostante siano anche espressioni di libertà ehm me la prendo come ti dicevo prima con tutti noi il meccanismo dello streaming funziona e sta in piedi perché tutti noi continuiamo ad alimentarlo come tutti noi continuiamo ad alimentare il meccanismo della musica dal vivo non pagata come tutti noi tutti i giorni continuiamo continuiamo ad alimentare cose che non funzionano continuando a non farle funzionare da protagonisti ehm è una cosa tutta italiana eh soprattutto italiana eh forse perché un po' ci piace anche il dramma ehm però però è così io me la prendo con tutti in quel pezzo lì proprio perché credo che tutti siamo colpevoli eh me incluso. Eh questa è una bellissima riflessione essere anche parte del problema nel senso di interrogarsi su eh su anche quello che possiamo fare individualmente singoli singolarmente per cambiare una collettività che poi eh da quello nasce un po' il cambiamento quindi eh potrebbe essere anche una piccola rivoluzione insomma incominciare a a pensare che sei parte del problema e già individuarlo, già individuarlo, capire che c'è un problema di pubblico è già il primo grande passo. Esatto. E oggi siamo lì, vediamo poi per la soluzione c'è tanta strada da fare. E infatti. E invece poi è un altro tema che affronti nel disco quello dell'intelligenza artificiale che è un tema caldissimo in questi eh in questi mesi perché si parla tantissimo sullo sviluppo dell'intelligenza artificiale, di cosa cambierà in futuro eh rispetto all'utilizzo anche nei settori creativi. Eh tu nello specifico cosa pensi rispetto a questo argomento? Può essere considerato un aiuto oppure è il tramonto e la creatività? Allora è un argomento ehm parto da un presupposto che in realtà conosco molto poco eh nel senso che non sono effettivamente informato sulle opportunità effettive che l'intelligenza artificiale può offrirci. Credo così da profano che ce ne possano anche essere. Penso all'applicazione che ne so in campo scientifico o in tanti ambiti in cui può effettivamente diventare un'opportunità. ehm e per certi versi credo che anche nella praticità della musica può diventarlo. Eh quello che però io contesto in quella canzone lì è che quando all'intelligenza artificiale proviamo a far fare delle cose ehm che nascono invece profondamente dall'attitudine umana come l'arte, come la musica, come la canzone, come ehm qualsiasi forma d'arte o in quel caso specifico nella mia canzone parlo anche di di amore, di relazioni tra persone, insomma da tutte cose fatte dalle persone. Io credo che poi quando si fa, si prova a far sì che l'intelligenza artificiale riesca a fare quello secondo me tutto sommato ci rendiamo conto che che questo è impossibile. Eh la cosa bella dell'uomo che ha ancora una grande imprevedibilità proprio perché è fallibile e quindi gli errori creano di conseguenza altre cose. Eh la musica, l'arte sono fatte di errori. Eh sono una sommatoria di errori e in quello secondo me l'intelligenza artificiale potrà far poco. Penso però che rispetto a tanta musica e tanta roba che sento in giro eh credo che tutto sommato l'intelligenza artificiale possa fare benissimo e provare tranquillamente a replicarla perché è già quello che provano a fare le persone, ossia a copiare. E in quello e in quello sono abbastanza convinto che l'intelligenza artificiale può essere molto molto più brava degli uomini. Assolutamente. Allora io per fare un piccolo gioco ho fatto fare le domande all'intelligenza artificiale, domande di questa intervista e ovviamente cioè si mostra mostra subito come fallisce immediatamente perché la prima domanda che ti fa l'intelligenza artificiale è una cosa che non so dove ha trovato dice dai primi passi a Sanremo Lab alla vittoria X Factor. Come hai reinventato il tuo sound nel corso degli anni? Cioè senza l'intelligenza artificiale mi ha fatto vincere. Mi ha fatto vincere X Factor. Questa è la prova che l'intelligenza artificiale è fallibile perché penso che chiunque mi conosca sa che probabilmente è improbabile che io abbia partecipato e forse anche che io ho partecipato in futuro. No, questo per dimostrare anche la fallibilità dell'intelligenza artificiale che in realtà ti ha dato tutto un altro contesto musicale. Invece tornando all'album La Soglia 30 è alla copertina. Io vedo insieme a te un personaggio bellissimo che per chi non lo sapesse è il famoso Umarell e tra l'altro nell'album è messo in primo piano che guarda in un'altra direzione e dietro c'è un'esplosione. Da dove nasce questa volontà artistica e perché? E soprattutto presentaci poi il tuo amico. Sì, alla quale non ho un nome quindi te lo presenterò con il suo nome d'arte che è Umarell ma poi magari avrà anche un nome all'anagrafe, non lo sappiamo. Negli ultimi anni devo dire che sto mettendo insieme il discorso musicale anche cercando di lavorarlo graficamente nel senso di provare a dare io un'interpretazione grafica a quello che ho scritto. Anche perché mi viene più semplice che spiegare a una persona quello che vorrei fare. Faccio molta fatica a spiegare le mie idee a parole. È anche un mio limite. E allora ho detto ci provo io e da qui è nata la grafica del disco che come dici tu ha questo Umarell che guarda concentrato il vuoto. Era magari un cantiere, chi lo sa. Dietro di lui c'è un'esplosione. E questa visione qui mi è nata un po' da quello che secondo me è la nostra condizione attuale. È un po' quello che dicevo prima. Noi arriviamo a delle situazioni senza renderci conto che stanno accadendo, ma quando accadono esplodono. Sono già al momento peggiore di quello che può essere per esempio in una guerra. Succedono delle cose terrificanti e ce ne rendiamo conto in quel momento lì, ma poi magari storicamente sono anni che quelle situazioni lì sono ingestibili e andrebbero affrontate. Mi viene in mente il problema della Palestina. Chiamarlo problema è anche forse sbagliato perché la Palestina non è un problema. Però quel mondo lì, quel mondo di cose. E questo va bene per i grandi temi sociali, le guerre, ma va anche bene per delle tematiche normalissime delle nostre giornate. E allora mi è venuta in mente questa idea di un anziano che guarda i cantieri, perché credo che l'anziano arriva a un punto in cui il suo l'ha già fatto e tutto sommato trova più interessante qualcuno che fa un cantiere che andare a pensare al futuro, perché ormai il futuro lui il suo se l'ha già scritto, e l'idea dell'esplosione dietro, perché per me oggi il nostro mondo sta esplodendo. Assolutamente delle cose su cui riflettere. Infatti, secondo me, anche questa è la potenza della musica e del concetto e del progetto artistico in generale, che appunto può veicolare sicuramente determinati messaggi. Invece per quanto riguarda la definizione del tuo genere, io ovviamente ti definisco un cantautore, però pensando proprio a questa parola, in passato aveva una connotazione molto più chiara e definita, perché rifletteva anche un modo di cantare e avere anche un valore molto politico rispetto a ciò che si cantava. Invece oggi molti cantanti scrivono i propri testi, però non sono iscrivibili in quella denominazione precedente. E allora la mia domanda è, secondo te chi sono i cantautori oggi? Beh, ma io sui cantautori oggi ti posso dire che per alcune volte nella musica che ascolto dico una cosa che sembra assurda, trovo più nel rap, in alcune cose del rap che ho sentito e che mi piacciono, un'attitudine cantautorale nel vero senso della parola. Io ho provato a fare questo disco per far sì che le persone mi potessero dire sei un cantautore e quindi anche un cantautore politico. A me piace la definizione che il mio disco possa essere definito politico, perché per me l'impegno politico è importantissimo. L'impegno politico non è inteso come sostegno un partito. Impegno politico inteso come azione nel cercare di fotografare delle cose e dare una propria versione, visione, idea, anche ideologia di quello che stai raccontando. Il cantautorato oggi è inteso come mi scrivo le mie canzoni e quindi me le canto. Va anche detto che il mondo della musica, il mondo delle canzoni, degli autori è cambiato in maniera ormai definitiva rispetto a quello che era un tempo, soprattutto perché io credo ci sia un grande problema, mancano interpreti, mancano non per problema che non ci siano, ma mancano perché effettivamente si fa fatica e di conseguenza tutti scrivono, tutti scrivono canzoni. Quindi i cantautori ormai sono talmente tanti che giustamente è difficile definirli come un genere, li definisci più come un ruolo nella musica che come un genere. Io però penso, e ho fatto questo disco per far sì che io venissi definito cantautore non solo perché ho scritto le mie canzoni e le ho cantate, ma perché l'ho fatto cercando di mettere in campo quello che ho imparato da chi invece lo faceva anche per posizionarsi. Ma questo da ascoltatrice emerge perfettamente, non a caso io ho utilizzato questo termine anche perché fa paura il termine politico, perché molti lo identificano come dici tu ad un partito. In realtà la politica è la scelta che facciamo tutti i giorni di scegliere un posto piuttosto che un altro, andare a vedere un concerto al posto di un altro. Ci sono tutte scelte politiche perché fanno parte poi della società e quindi poi che c'è una politica fatta dai partiti che non è in ascolto con magari i desideri e i bisogni del suo popolo è tutto un altro discorso. Però noi siamo esseri politici perché sennò dovremmo stare chiusi a casa e invece. Ma come dici tu teoricamente noi facciamo politica tutti i giorni. Sì. Noi facciamo politica sul posto di lavoro, facciamo politica cena fuori, facciamo politica sempre nella nostra vita. È chiaro che purtroppo ahimè chi la politica l'ha usata come chiamiamola la professione diciamo che non l'ha fatto particolarmente bene. Questo ha fatto sì che dire solo la parola politica faccia quasi paura. Ma la politica è una delle cose più belle secondo me che ci sono la massima espressione di una persona all'interno di una società. Assolutamente. E quindi noi dove possiamo venire ad ascoltarti nei prossimi eh nei prossimi eh nei prossimi mesi. So che hai dei live quindi se vuoi eh condividerli con noi insomma. Sì perché viene anche lui. Che non ha un nome. Quindi. No per ora no. Vuole avanzare delle proposte noi siamo siamo qui ad ascoltarle. Eh il 6 giugno suoniamo al qui da Roma. È una data molto bella perché poi a mezzanotte c'è il disco eh suoniamo in trio io, Molla e Luca che sono i due produttori del disco. Quindi è proprio un momento un po' anche di festa per per celebrare e finalmente ce l'abbiamo fatta l'uscita eh di questo disco. Poi suono a Taranto il 15 di giugno e il 16 di giugno a Corigliano d'Otranto in una serata molto bella e particolare di un progetto che sto portando avanti con Cortese che è un cantautore eh Salentino mio amico molto 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 bravo con cui condivido il palco e condivideremo anche le nostre canzoni. Quindi è una serata molto molto bella per cui secondo me vale la pena esserci e poi spero di averne altre diciamo che ci stiamo lavorando e e piano piano aggiorneremo insomma il famoso calendario un aggiornamento. Va bene io ti ringrazio per il tuo tempo e invito tutti quanti ad ascoltare il disco La Soglia dei Trenta e a presto e buona musica. Grazie anche a te, grazie mille.